E a due settimane della cattura del super boss ed ex super latitante Matteo Messina Denaro, domani in Castelvetrano, trasferta della Commissione Antimafia Regionale, la quale si riunirà presso il Palazzo di Città con il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, preseduto dal prefetto di Trapani, Filippina Cocuzza. Saranno presenti 25 sindaci e delegati delle municipalità trapanesi. Abbiamo avviato un lavoro itinerante per la Sicilia, fatto di incontri, conoscenza e contatto diretto con i territori. Aveva ammesso il Presidente della stessa Commissione Antimafia Regionale, Antonello Cracolici. E partiamo da Castelvetrano a pochi giorni dalla cattura del boss. Per voi intanto una prima riflessione posta alle nostre telecamere, dal parlamentare PD Allers, Dario Safina. Io penso che il Presidente della Commissione, Lonello Cracolici, abbia fatto bene a convocarla a Castelvetrano, abbia fatto bene a prevedere l'incontro con tutti i sindaci, perché sicuramente l'ho stato assegnato un punto a suo favore, ma la battaglia contro la mafia non è ancora vinta. C'è bisogno dell'impegno di tutti noi, dei cittadini, delle forze dell'ordine, della politica in primo luogo. La cattura di Matteo Messina Denaro rappresenta un punto a nostro favore, però è un percorso che ancora va intrapreso e va difeso, perché ha ragione chi dice che 30 anni di latitanza sono tanti, ha ragione chi dice che per fare 30 anni di latitanza ci sono delle protezioni molto forti e dunque ora l'obiettivo è per veramente colpire questa rete di fiancheggiatori, perché rappresenta ancora un pericolo per il nostro territorio e per la Sicilia in generale. C'è il rischio che si spostino i riflettori, si sta puntando tutto all'oggettistica varia, il Viagra sul comodino trovato, la marca dei profilattici, la mortadella comprata dalla Salomiere, lo scontrino trovato nei pantaloni. Mi sa tanto che si sta trasformando un mafioso ad una star di successo sul viare del tramonto. L'aspetto del gossip deve essere assolutamente secondario, a noi, ripeto, e ha ragione il presidente Caracolici, a noi interessa dare un contributo affinché la politica svolga il suo ruolo, che è quello di mettere in campo un sistema di economia, un sistema di rapporti sociali e non solo che possa veramente arginare il fenomeno mafioso. Per arginare il fenomeno mafioso è necessario far sì che la rete di fiancheggiatori venga scoperta. E questo è l'elemento fondamentale dell'indagine su Matteo Messina Denaro ed è chiaro che poi la mafia non era solo Matteo Messina Denaro, saranno già pronti ad avere un nuovo capo e noi dobbiamo colpire la rete dei mafiosi e dei fiancheggiatori senza mai fermarci. Sa cosa chiede l'uomo di tutti i giorni, il nostro vicino di casa, il nostro di impettaio, la riflessione che fa è ma dove ci hanno fatto vivere in tutti questi 30 anni, quando poi da Castelvetrano è stato acciuffato a un tiro di scoppa a Campobello? Che Matteo Messina Denaro fosse nel nostro territorio, per quella che è la storia della mafia, io penso che gli investigatori ne erano consapevoli e hanno avuto la difficoltà di trovarlo proprio perché è protetto da un'ampia rete di fiancheggiatori che lo ha difeso. E questi rapporti vanno svelati perché quando si sta latitante 30 anni vuol dire che si parla di poteri molto forti e noi questi poteri dobbiamo sgominare. Non c'è il timore che per scovare la mafia viene sempre più difficile perché ormai è diventata economia. Penso che le nostre forze dell'ordine abbiano gli elementi, abbiano gli strumenti, le capacità per far sì che questo mischiarsi nell'economia legale venga scoperto. Del resto tanti sono stati gli imprenditori mafiosi che sono stati colpiti, definirli imprenditori è un parolone, e tanti sono stati i mafiosi che facevano economia che sono stati colpiti, tantissime sono le confische, dunque abbiamo dimostrato, le nostre forze dell'ordine, la magistratura hanno dimostrato di avere gli strumenti per colpire il malaffare ovunque questo sia nidi. Matteo Messina Denaro rappresenta l'ultimo dei mafiosi stragisti e il primo dei mafiosi economisti. Ecco, noi dobbiamo stare attenti a ulteriori cambi di pelle. Ciò che conta è mettere in campo un sistema in cui non esistono le prebende, non esistono i favori, ma esiste il diritto, esiste un'economia che viene sostenuta legalmente, esiste un sistema in cui il lavoro viene creato legalmente perché lo Stato è l'unica vera alternativa, il resto è qualcosa della quale dobbiamo assolutamente affrancarci. La provincia di Sapani che esulta, Castelvetrano che scende per strada, Campobello che si unisce, i primi cittadini che partecipano è sinonimo di non tutta la provincia di Trapani, non tutta la Sicilia è mafia. Terra di persone per bene, oneste, noi abbiamo già fatto la primavera siciliana negli anni 90, colpito duramente con il buon aggiro amministrativo, le pratiche della mafia che si infiltrava negli appalti, che prova ancora oggi, attenzione, infiltrarsi negli appalti, però sempre più spesso viene scoperta. Dunque la maggior parte della società trapanese e la società siciliana è fatta da persone oneste per bene che vorrebbero che questo fenomeno umano, come diceva Falcone, non esistesse più e io sono convinto che possa essere sconfitto.